54 anni, pugliese giurista, Giuseppe Conte potrebbe essere il nuovo premier, ma in quanti lo conoscono? Mi sa dire chi è? No. Mai visto? No. Se le faccio vedere questa foto, mi sa dire chi è? È il nuovo allenatore dell'Italia, no, è Conte. Dovrebbe essere il nuovo premier, lo sbaglio. Ma lei lo conosceva prima? No. Mai sentito parlare? No. Quando ho letto non sapevo se parlavano di Conte il calciatore oppure Conte, poi ho capito. Conte, sì. Ne aveva mai sentito parlare prima? No. Ha letto un po' il suo curriculum? No, ho sentito qualcosa, ma niente di particolare. Conte, sì. Lo conosceva prima? L'ho sentito questa mattina in radio. Per la prima volta? Per la prima volta, esatto. È fiduciosa? Speriamo. Lei? Speriamo. È un bravo allenatore. È bravissimo, ha fatto bene anche fuori, quindi quello che fa, fa bene. Nuovo presidente del Consiglio? Lo conosceva? Mai visto. Mai sentito? Adesso me lo vado a leggere. Do you know this man? No. You? No. L'ho visto ieri sera. Beh, mi sembra una brava persona. Non lo so, ha detto di loro, va bene. Ma lei... Aspettiamoci, aspettiamo un attimo, diamo tempo al tempo. Sinceramente, da quello che dicono, sembrerebbe una persona corretta e professionalmente molto valida. Speriamo che riesca a risollevarci tutti quanti. Federico Sisimbro, Sky TG24.